spediti lì a loro allora chiediamo gentilmente di prendere un po' più posti di liberare anche il passaggio perché tra poco arriveranno gli sposi e non solo e non solo potete sapere ma gli sposi e non solo sono tante tante sorprese questa sera ricco di sorprese era molto bene signori siamo pronti con le mani perché diamo in via diamo inizio ufficiale ufficialissimo e l'ingresso prima degli sposi allora camicelle e testimoni un grande e un gravissimo applauso per Coro che quest'oggi ricorda un lavoro importantissimo con le mani 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 tutti fino a Marese con le mani con le mani e allora molto bene signori già si è fatta vedere già si è fatta vedere perché dice io sono una sposa e quindi voglio farmi vedere e allora signori sino a quanto non parte un applauso gigantesco non chiameremo gli sposi quindi con le mani con le mani con le mani suonano 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 signori e signori questa sera per voi eccezionalmente gli sposi grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille allora gente il primo giro tra poco ritornerà anche noi grazie mille si è fatta con le mani brava mi piace